Buongiorno a tutti, vi presento oggi il corso di Prinsu che abbiamo organizzato per presentare e spiegare in maniera dettagliata questa metodologia di gestione progetti e questo corso dura tre giorni al termine dei quali nel pomeriggio del terzo giorno si farà anche l'esame per ottenere la certificazione Prinsu Foundation. La metodologia è una di quelle più diffuse in tanti mercati ed è assolutamente interessante perché come tutte le altre metodologie di Prinsu Foundation non è in contrasto con altri tipi di approcci ma è un complemento e presenta dei punti di novità o delle piste sul tema della gestione progetti davvero interessanti e uniche. Spero quindi di vedervi numerosi e speriamo anche certificati alla fine del corso. A presto!